ciao stelline e bentornati sul canale non sapete chi siamo e perché siamo travestiti da stella rubbia e robin dei team titans in realtà siamo blair e mark oggi ci sfideremo in una gara d'arredamento io arrederò questa stanza come quella di robin o come la farebbe lui insomma e io questa come stella rubbia parti prima te robin va bene cominciamo allora carta da parati sui colori sono tipo giallo e rosso questo ma non mi fa impazzire questo penso che questa è perfetta perché lui ha tipo i bordang si c'è insomma pavimento metterei uno normale tipo questo si poi letto questo sì che sembra la batmobile insomma perché comunque lui è ancora legato a batman vediamo un po anche qui uno normale robina cose normali noiose non è ordinare una scrivania ok questo va bene una serie questa va bene ecco fatto poi un tappeto vediamo mettere questo sì mi ricorda batman non so perché se per le punte qualcosa per appendere questo qui bene è un inizio adesso do una sistemata e poi vi faccio vedere passo la parola stella rubbia